Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei Saleva Mountain Trainer 2 Winter GTX un nome lunghissimo per andare a descrivere uno scarpone invernale che dà le sue migliori prestazioni su terreni particolarmente freddi e ghiacciati ma partiamo subito con la recensione Iniziamo subito dal peso Allora, numero 8 UK 42 pesano per esattezza 650 grammi Mio solito 47 arriviamo a 850 grammi per scarpa Non è tantissimo, se non si sente alla calzata del piede il peso va bene La parte da cui partirei perché è quella che mi è piaciuta veramente di più è la suola, la suola Vibram Ice Track 2 Arctic Grip Una suola molto morbida, davvero molto morbida Quando noi camminiamo su terreni che non sono nevosi o ghiacciati i sassi li sentiamo tantissimo Ma la sua morbidezza gli dà un grip veramente fantastico su ghiaccio, neve, terreni particolarmente scivolosi Attenzione, naturalmente, quando dico ghiaccio intendo quel ghiaccino un po' rugoso non ghiaccio liscio, sul ghiaccio liscio nessuna scarpa tiene, ci vanno i ramponi Ma questo scarpone qua mi ha veramente sorpreso per la sua suola fatta bene, costruita bene, con un grip fenomenale Altra cosa da aggiungere sulla suola Vibram, la durabilità perché comunque utilizzato lo scarpone è ancora in ottime condizioni nonostante ci abbia fatto abbastanza escursioni in questi mesi Veniamo a parlare un attimo dell'intersuola molto velocemente Un'intersuola microporoso, va bene, ammortizza comunque bene anche in discesa Nessun problema È una scarpa però molto rigida Cioè la leva dice essere semirigida ma guardate, io veramente ci faccio tutta la forza che riesco e non la piego Secondo me su questo scarpone anche un rampone universale potrebbe andarci bene Ma saliamo, veniamo a parlare della tomaia La tomaia, troviamo una tomaia scamosciata, in puro camoscio, alpinwall da 1.4 mm di saleva Una tomaia che ci permette di poter utilizzare lo scarpone in camminata fino a meno 15 Da fermi anche meno 10 Meno 15 in camminata è veramente tantissimo soprattutto per il prezzo che viene venduto perché se volessimo utilizzare uno scarpone per andare sotto i meno 15 beh a quel punto dovremmo andare a prendere gli scarponi passatemi la battuta che usa Simone Moro degli scarponi che vanno a costare quasi 1000 euro È uno scarpone che grazie a questa tomaia ci permette di poter affrontare qualsiasi condizioni che abbiamo sulle nostre Alpi dal punto di vista del trekking e non dell'alpinismo È uno scarpone che veramente ci tiene molto caldo il piede Veniamo a parlare dell'allacciatura Troviamo un'allacciatura definita da Saleva Tech Approach Shoelace Un'allacciatura che funziona bene ma non mi è piaciuta I lacci sono fin troppo sottili Ho veramente paura di romperli ogni volta che vado a serrare il piede all'interno dello scarpone E soprattutto mi sarebbe piaciuto avere un passalaccio autobloccante nella prima parte qua sotto che non c'è Quello mi sarebbe veramente tanto piaciuto Diciamo che l'allacciatura è fatta bene perché comunque il piede sta bene all'interno È proprio il laccio che non mi piace Secondo me questi lacci sono da cambiare, sono troppo fini Per quanto riguarda invece tutta la parte posteriore con la linguetta Allora la linguetta è molto grossa, molto spessa Il piede all'interno sta veramente molto bene anche quando camminiamo in tratti molto ripidi e in discesa Ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è questa parte posteriore morbida Che evita che ci venga quel fastidioso dolore nella parte posteriore del piede a contatto con lo scarpone Questa parte qua chiamata flex collar da saleva è veramente ottima Cioè dovrebbe essere su tutti gli scarponi veramente Perché ci sono tantissimi scarponi che invece qua dietro sono super rigidi e fanno veramente male In generale questo scarpone, vista la soltezza, vista la ghetta, questa parte alta un po' a ghetta Come si serra all'interno il piede, evita l'ingresso della neve Naturalmente va utilizzato anche con un pantalone con una buona ghetta Perché comunque lo scarpone non fa tutta la parte del non fare entrare la neve all'interno Infine vi parlo della grandezza dello scarpone Io ho comprato il mio solito 47, il piede ci sta benissimo dentro Anche quando vado a fare attività molto pesanti in cui il piede tende ad aumentare di volume Nessun problema, quindi io vi consiglio di comprare il solito numero che utilizzate per le scarpe di tutti i giorni Perciò arrivando alle conclusioni Cosa ne penso di questo scarpone? Uno scarpone fatto bene, come vi dicevo, sarebbero da cambiare i lacci Mi è piaciuta la sua termicità, soprattutto mentre si cammina E è uno scarpone che si può consigliare praticamente un po' a chiunque Soprattutto vista la sua termicità appunto È uno scarpone che va benissimo, ma veramente benissimo per le ciaspolate Se dobbiamo fare le ciaspolate questo scarpone penso sia l'ideale Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video Io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo Ciao!